Oh 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 oho oh 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 Buongiorno a tutti! Ciao ragazzi! Felici di rivedervi! Mi sto esercitando prima di andare in scena Oggi abbiamo il Don Pasquale, la prima recita, eh? Bisogna essere concentrati Eh, venite, venite Io sono molto contento di rivederti Spero di rivedervi anche l'anno prossimo Vi faccio vedere una cosa Guardate, guardate, venite Il teatro Io quando sono qui al teatro Su un palcoscenico Come Don Pasquale mi sento Giovane come a vent'anni Ciao a tutti